Musica Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso Il sole sulla rambla oggi non è lo stesso Questo è uno dei tanti video che abbiamo di Yahya Sanjuar Mentre la gente di Gaza soffre in superficie Sanjuar si nasconde nei tunnel sotto di loro Correndo come un codardo con una delle sue moglie e i suoi figli Ti parlo adesso tra le macerie, tra i pezzi della mia famiglia e i loro vestiti Come hai visto li stavo estraendo Ho visto i resti della nostra casa per poter conservare qualcosa che mi ricordi la mia famiglia La reazione di Israele contro la popolazione civile palestinese E' sproporzionata perché ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas Quindi è giusto spingere Israele alla prudenza Non mi avete fatto niente Non avete avuto niente La Camera approva favorevoli 128, contrari nessuno, astenuti 159 La prospettiva, la stella polare deve tornare il riconoscimento e il rispetto del diritto internazionale E' necessario quindi, è urgente che ci sia un immediato cessato del fuoco umanitario E bisogna che il governo faccia tutto il possibile per fermare l'attacco annunciato a Rafa Che sarebbe un'ecatombe Confermiamo la nostra vicinanza allo Stato di Israele Aggredito dai terroristi di Hamas Chiediamo con forza la liberazione degli ostaggi E al tempo stesso una iniziativa di pace Che possa portare in Medio Oriente la coesistenza di due Stati e di due popoli Perché dove andate con i due popoli e i due Stati Se non promuovete il riconoscimento dello Stato di Palestina Con chi li fate i due popoli e i due Stati? Ricordo in maniera assolutamente positiva che ci sia stato un dialogo Fra il Premier Meloni e la segretaria Schlein Su un tema così delicato che interessa tutti noi Interessa soprattutto il futuro geopolitico, il futuro del nostro paese Cadranno i gratacieli le metropolitane I murri di contrasto alzati per il pane Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino Questo non è il servizio pubblico Questa è propaganda e braccio mediatico Nelle mani del potere politico e del governo Una roba inaccettabile Buongiorno cari telespettatori Allora nella copertina, nella bella copertina di Camilla Moreno Quello che è accaduto nelle ultime ore Con in primo piano ancora la crisi in Medio Oriente Sapete che sta crescendo, è già cresciuto il pressing internazionale su Netanyahu Perché ci sono troppe vittime civili nella striscia di Gaza Ieri mattina vi davamo in diretta le parole Davamo conto delle parole del ministro degli esteri Tajani Secondo il quale appunto la reazione israeliana è sproporzionata Peraltro stamattina Tajani ha parlato ancora alla radio ARTL Poi c'è stata una telefonata tra la premier Giorgia Meloni E la segretaria del PD Elie Schlein E nel pomeriggio il voto alla Camera sulle mozioni appunto sul Medio Oriente È passata la mozione di maggioranza Sono passate le mozioni di azione di Italia Viva Ma anche quella del Partito Democratico Su cui la maggioranza si è astenuta Che chiede un immediato cessate il fuoco umanitario Ed è una pagina diciamo da sottolineare Nella battagliera e muscolare politica italiana Poi ci sono stati gli scontri L'avete visto davanti alla sede RAI di Napoli Una manifestazione diciamo Dopo le polemiche sulla frase di Gali No stop al genocidio In questi scontri ci sono stati dieci lievi feriti Tra le forze dell'ordine e i manifestanti Avete sentito le parole dell'ex sindaco di Napoli De Magistris E sembra che ai vertici RAI ci sia Maretta C'è stata ieri una forte presa di posizione Di distinguo della presidente Marinella Soldi Dall'amministratore delegato Roberto Sergio Che come sapete aveva fatto leggere domenica scorsa Una nota in cui esprimeva solidarietà al governo israeliano E si dissociava in qualche modo dalle parole degli artisti di Sanremo Sul fronte della guerra c'è una notizia incoraggiante Sarebbero stati prolungati di tre giorni I colloqui al Cairo per una tregua Per il rilascio degli ostaggi israeliani Mentre l'esercito ha mostrato il video Del capo dei capi di Hamas Si inguarrano Immagini del 10 ottobre scorso In uno dei tanti tunnel nella striscia di Gaza E poi a chiudere questo capitolo Ci sono le indiscrezioni dell'Huffington Post Secondo le quali gli Stati Uniti Gli americani stanno indagando Su possibili crimini di guerra Compiuti da Israele Un po' a testimoniare la distanza che si accresce di giorno in giorno Tra l'amministrazione americana Tra Washington e il governo israeliano E Tel Aviv Oggi parleremo ancora Oltre che di queste cose Della vicenda, della questione degli agricoltori E anche di economia Delle prospettive dell'economia italiana Intanto do il buongiorno ai nostri ostri Bentornata Claudia Conte, giornalista e scrittrice Buongiorno Saluto e ringrazio Candida Morvillo Del Corriere della Sera Ciao Candida Che ci ha portato un libro Che poi è molto legato anche alla ricorrenza di oggi E non solo oggi San Valentino Il 14 febbraio San Valentino Lo ricordiamo Nonostante il mondo che ribolle Saluto Cristiano Fini Presidente di SCIA La Confederazione Italiana Agricoltori Ciao, buongiorno A proposito di quello che succederà domani Che sta succedendo nel mondo dell'agricoltura Per la maggioranza E con noi l'onorevole Paolo Borchia Eurodeputato della Lega Bentornato Buongiorno Ben ritrovati Grazie per l'invito Grazie La sento bello pimpante Saluto Come sempre Meno male Saluto l'onorevole Pina Fiscerno Buongiorno Parlamentare Partito Democratico Vice Presidente del Parlamento Europeo Ben tornato Buongiorno Posso cominciare da lei Che segnale è stato questo? Ieri la telefonata Poi questo voto Che sta succedendo alla politica italiana? Beh insomma Mi pare un ottimo segnale Che tutti abbiamo raccolto Con grande soddisfazione È sempre importante Quando la maggioranza e l'opposizione Riescono a discutere nel merito Soprattutto quando poi Si discute di cose molto importanti Che riguardano il presente e il futuro Del nostro continente Del mondo intero È già accaduto E accade regolarmente Al Parlamento Europeo Al Parlamento Europeo È stata votata Già un po' di tempo fa Una mozione per chiedere Il cessate Il fuoco umanitario Come espressione Che è stata ripresa poi Dalla mazione del Partito Democratico E anche in quella mozione Appunto si era riconosciuto Il diritto di Israele A difendersi Dopo il brutale attacco Di Hamas Del 7 di ottobre Ma dentro il perimetro Il diritto internazionale umanitario Cosa che ultimamente Dobbiamo riconoscere Insomma Non è avvenuta Non è avvenuta sempre Quindi La pressione internazionale Cresce Nei confronti di Netanyahu Perché Netanyahu Purtroppo Come già era avvenuto In precedenza E questo io lo voglio sottolineare Netanyahu Era un problema prima Prima del 7 ottobre È un problema oggi E la pressione internazionale Rispetto a Netanyahu Cresce per una seduzione Diplomatica Che eviti appunto Il coinvolgimento Di morti civili Ma voi chiedete anche Che l'Italia in qualche modo Capofila in Europa Noi chiediamo un'azione diplomatica Un protagonismo Del nostro paese Che all'altezza Anche me lo lasci dire Della storia diplomatica Del nostro paese Il nostro paese È un paese fondatore Dell'Unione È un paese Che ha una storia Diplomatica importante In termini di relazione internazionale Ha un peso specifico Nello scacchiere europeo Ha una posizione geografica Molto particolare Molto particolare Molto rilevante Quindi sa La riflessione è che Si è giocato sempre Troppo di rimessa Vale sulla questione Del Medio Oriente Ma vale un po' Su tutte le questioni Che hanno investito E che riguardano Il nostro paese E noi chiediamo Un protagonismo Maggiore Dell'Italia All'altezza Della sua storia Gloriosa Noi parliamo anche Dell'Europa Adesso ci limitiamo Alle questioni domestiche Poco fa Vi dicevo di Tajani Tajani stamattina Ha parlato RTL Ha detto qualcosa Altre cose Sulla vicenda Ha detto che Israele Ha il diritto Di attaccare Hamas Noi diciamo però Che bisogna che ci siano Degli attacchi mirati Cercando di ridurre I danni Alla popolazione civile E poi ha detto Ancora il nostro Ministro degli Esteri Noi siamo amici Di Israele Sosteniamo con forza Il diritto Di Israele A difendersi A non essere attaccato Nessuno lo può cancellare Dalla carta geografica Ovviamente Il Ministro degli Esteri Ripete Che serve una de-escalation Claudio Conte Ma Al di là Della telefonata Di ieri Evidentemente Il nostro governo Il governo Di un grande paese Occidentale Ha visto Che poi Insomma Sta cambiando L'atteggiamento Le confronti di Israele In primis L'amministrazione Biden Ieri la Cina La Russia La Gran Bretagna E insomma Bisogna anche Allinearsi A un cambiamento Perché Netanyahu Non ascolta nessuno Non sono valsi a nulla Finora I tentativi Di Biden Di Pechino Europei Netanyahu Va per la sua strada Non Non pensa Ovviamente A tregue Che non Perché una tregua Adesso Potrebbe significare Una remise in form Da parte Di Hamas Ovviamente Quindi Se Hamas Si rimobilita Potrebbe Avere la meglio E quindi Netanyahu Per lui È inconcepibile Ovviamente Tutta la parte del mondo Anche il diritto internazionale Non possono pensare Che ci debbano essere Questi bombardamenti Sui civili Adesso a Rafa È preoccupante L'escalation A Rafa Un milione e mezzo Prima dell'operazione Diciamo di terra A Rafa No? Un milione e mezzo Di persone Senza corridoi umanitari I corridoi umanitari Sono necessari Per i civili Vediamo Siamo Anche noi bombardati Da queste immagini Di bambini Che muoiono Mentre noi stiamo parlando Quindi Con l'Egitto Ricordiamo che Rafa È nel sud A striscia di Gaza Che erige barriere Per impedire Che appunto Un milione e mezzo Di persone Arrivino in Egitto Questa sarebbe Tutta un'altra puntata E bisognerebbe parlare Anche di questo E la follia È che adesso Vorrebbe appunto Fare un Un bombardamento Lì Vediamo che succederà Voglio Prima di andare Dall'onorevole Borchia Voglio chiedere una cosa Candi Amorvillo A proposito del rapporto Proprio tra Giorgia Meloni Ed Elislein Perché molti dicono Giorgia Meloni Si è scelta La contendente Nell'opposizione Che Elislein Il PD rimane Il primo partito Dell'opposizione Ma insomma Come sapete C'è un derby Tra Elislein E il capo Del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte Secondo te Questa cosa è maturata Anche per un rapporto Tra due donne O no Ma io credo Che Insomma Sono Due leadership Femminili Che si sono scelti A loro insaputa In qualche modo Perché Il potere femminile Cioè qualcosa Di abbastanza nuovo In questo paese Sia a destra Che a sinistra Ed è qualcosa Che In qualche modo I leader Maschili Non l'hanno ancora Ben compreso Ha delle logiche Diverse Ha del Ha una concretezza Diversa E comunque C'è anche più Pragmatismo C'è un approccio Diverso Alla realtà Un approccio diverso Io credo Alla trattativa E anche ai rapporti umani E alla E alla relazione Che in qualche In qualche modo Cioè Io credo Che si capiscano Meglio fra loro Di quanto non si possano Capire In generale Mi sembrava Un conte In meloni Ma per il semplice fatto Che quello Che è un potere Tradizionalmente maschile Cioè Fa fatica A capire Che per esempio Le donne Sono meno portate Alla mediazione Su alcuni valori Quindi non che Non siano portate Alla mediazione Molto più degli uomini Ma su alcuni valori Sono Tetragone Beh Sono Diciamo Sono molto Determinate A difendere Le posizioni Rispetto a ciò Che per loro Conta E questo è Molto femminile Quindi io credo Che in qualche modo Ci sia Un'intesa Che anche Loro malgrado Ci sia stata Allora Devo andare in pubblicità Voglio anche Ricordare una cosa A proposito Di Schlein Meloni Che c'è Sempre sospeso Il match Il duello Televisivo Vedremo quando Immagino Più in là No man mano Che la campagna Per la campagna Elettorale Per l'europea Si avvicina E vedremo anche Dove Dove Allora Pubblicità Tra pochissimo Riparto con L'onorevole Borchia Poi sentiamo ovviamente Anche il presidente Fini Perché ci occupiamo Oggi anche Ancora Come abbiamo fatto In tutti questi giorni Della protesta Dell'agricoltori Tra poco Allora Sentiamo l'onorevole Borchia Su Insomma Quello che è successo Ieri Qui In Italia Alla Camera Borchia È soddisfatto? Partiamo dal presupposto Che stanno perdendo La vita Troppe persone Il lato umanitario In questi casi È il primo Che deve essere Preso in considerazione Per cui Quando io vedo Che la politica Riesce a dare Una risposta unitaria O almeno ci prova O almeno ci sono Degli sforzi Penso che sia Un messaggio positivo È un messaggio Di maturità Poi È innegabile Che credo Tutti quanti Abbiamo Come dire Abbiamo l'ambizione Di vedere Un maggiore protagonismo Da parte del nostro paese Nell'area Del Mediterraneo Quindi quanto sta succedendo In Medio Oriente Da un punto Di vista geopolitico Rivaltando un attimo Al prospettivo Può anche diventare Un'ottima opportunità Per il nostro paese Per far vedere Di che pasta è fatto Poi Chiaramente Sul tema Delle Delle mozioni Di ieri Da un certo punto di vista Mi fa piacere Che ci sia Un avvicinamento Da parte del Partito Democratico Alla linea del governo C'è stata una votazione Per parti separate È stato messo Come aprire un punto Il tema degli ostaggi E successivamente Quello del Cessato al fuoco Quindi penso che Siano usciti Dei testi equilibrati Che vanno Chiedo scusa Che vanno nella direzione Che auspicavo prima Poi Un po' più in generale Il punto è che Vedo Nell'atteggiamento Di Hamas Visto che comunque Netanyahu Ha dimostrato Di essere Un profilo Che decisamente Non porge L'altra guancia Però vedo Un tipo di atteggiamento Che magari Anche attraverso La provocazione Cerca di isolare Israele Da quello che È il resto Dell'Occidente Però io ritengo Che Che ieri da Roma Sia partito Un buon messaggio Senta Per questo proposito Le faccio Un supplemento Di domanda Perché Ieri C'è stato Il 75esimo Anniversario Delle relazioni Diplomatiche Tra l'Italia E Israele E il presidente Del senato La russa Ha detto L'Italia Non ha mai avuto Disaccordi Con Israele In momenti difficili La nostra vicinanza È ancora più sentita E poi Ha detto la russa Il 7 ottobre Nasce dall'antisemitismo Feroce Il tentativo Di isolamento Di Israele Continua Ci opporremo Ad ogni tentativo Di isolamento E questo L'ha detto la russa L'ambasciatore In Italia Israiano Alon Bar Ha detto Questa è l'ora In cui Vediamo Chi sono I veri amici Che vuol dire Secondo lei Ma per come intendo Io L'amicizia Translata Anche in politica Ritengo Che ad un amico Si debba dire Quando Magari non sta facendo Tutte le cose Più corrette Adesso penso Che Il posizionamento Della Lega Nei confronti Di Israele Sia chiaro E cristallino Come Quello che dovrebbe Essere il posizionamento Del nostro paese A fianco di Israele I fatti del 7 ottobre Penso che Non abbiano Bisogno Di troppi commenti Però Nel momento In cui La reazione Sembra sfuggire Di mano Quando si vedono Alcune vittime Che nulla a che fare Hanno con Amars Magari È giusto Un supplemento Di riflessione Non l'ho convinto Non l'ho convinta Non è che deve Convincere Me Sono discorsi Di una Complessità Enorme Lo stesso ambasciatore Accadendo Senza fare Un accenno Equilibrato Invece al 7 ottobre Molte manifestazioni Che avevano Nel caso sono terroristi E devono essere Cancellati Perché sono terroristi Pericolosissimi Nell'altro caso Parliamo di civili Di persone Di bambini Di donne Che non c'entrano niente Tutto chiaro Però nelle proteste Purtroppo Non c'è questa distinzione Posso chiedere A Cania Morvillo Secondo te Siccome diversi esponenti Della maggioranza A proposito delle polemiche Di Sanremo Hanno detto A Sanremo Si va per cantare Poi ci sono altre sedi Altri luoghi Altre trasmissioni Per parlare di quelle questioni Come la pensi? Beh Che gli artisti Storicamente Tradizionalmente Usano Diciamo I momenti Delle loro esibizioni Sul palco Su qualunque palco Anche per dire La loro E per esprimere Diciamo Il loro diritto Di opinione Di critica È fatale Il festival Di Sanremo Tradizionalmente Insomma Si presta Su malgrado Ad essere Diciamo Usato come megafono Dagli artisti Quando hanno qualcosa Da dire E quindi Semplicemente Lo dicono Alla fine Anche tutte Queste polemiche Fanno parte Del pacchetto festival Sì Del post Sì Certo Del post festival Poi magari Le reazioni Anche dell'azienda La lettura Del comunicato Il giorno dopo A Domenica Inn Ecco Forse Quelle sono state Diciamo Fin troppo Diciamo così Puntuali Se non invasive Perché tutto Andrebbe Ridimensionato Dentro Quella scatola Che di fatto È una scatola Che fa spettacolo E fa spettacolo Anche portando Magari Dei messaggi Politici Detto questo Chiaramente Poi Quello che succede È che si richiedeva Da Amadeus Un intervento Che non era Da uomo Di spettacolo Ma ecco Da giornalista Che stava lì A chiarire Diciamo Ad avere una funzione Giornalistica A chiarire Che c'erano Anche Che c'erano Anche gli ostaggi Israeliani E quant'altro Diciamo che si è incastonato Quest'edizione Di quest'anno In un momento Molto Complicato Del mondo Con appunto La crisi Medio Oriente Ma io non ricordo Un Sanremo Senza Strascici Polemici Non è Sanremo Senza Da quando avevo I calzoncini corti O quasi Allora Per affrontare L'argomento Agricoltura Voglio farvi sentire L'altro giorno Era a Roma Romano Prodi E ovviamente Questo è un piccolo Estratto di un discorso Molto più ampio Vi voglio far sentire Le parole Assolutamente Non tenere Dell'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi A proposito Dell'Europa Sentiamo Prodi Guardate che Di fronte ai grandi eventi Noi non siamo contati nulla Anche in Ucraina Ci siamo schierati Diretti da Non parliamo che in Israele Problema che riguarda il Mediterraneo A noi vicini Nemmeno c'è stato Un messaggio di alcun tipo O noi Iniziamo Una unità decisionale Oppure Non abbiamo nessuna possibilità Di andare avanti Abbiamo una divisione interna Che ci rende incapaci Di prendere una qualsiasi decisione Trump quando dice Dovete spendere di più Non ha neanche il senso Della quantità Il problema è Che lui non vuole Che spendiamo meglio Perché Gli interessa Una frammentazione Dell'Europa Scusate Ma vogliamo davvero Pensare di fare Un esercito europeo Quando un paese Solo ha l'arma nucleare Di fare una politica Estera europea Quando un paese solo Ha il diritto di veto Facciamo ridere E però Non si riesce a fare Perché Quando si va In Francia A proporre questo Mi trattano da matto Noi ci troviamo Veramente In un impasse Il diritto di veto Fermano Qualsiasi possibilità Di decisione E la battaglia Non può che essere Fine del diritto di veto La sovranità E vedrete Che non va via nessuno Anche Il signor Orban Urla urla Ma ci sta benissimo In Europa Negli ultimi giorni È venuto fuori Questo discorso Di Trump Attenti Perché Questo Si porta A un'altra situazione Che facciamo Le elezioni europee Attendendo quelle americane In questo momento Io vedo l'Europa Fantastica Nel dettare il menù E poi a tavola Si siedono Gli americani E i cinesi Buon appetito Oh Questa parte finale Detta alla maniera Di Prodi Noi facciamo il menù Siamo bravissimi Poi però I commensali Chi mangia Sono altri E vado dal presidente Fini Perché anche con la vicenda Dell'agricoltura A proposito della concorrenza Che è stata evocata Un sacco Durante Moltissime volte Durante queste proteste C'entra eccome O no? C'entra eccome Perché Noi da tempo Rivendichiamo Il diritto Di reciprocità All'interno Diciamo Delle regole Commerciali Tra Europa E altri paesi Perché non può essere Che noi agricoltori Italiani Ed europei Produciamo Con delle regole Ben precise Ben definite E anche Per certi aspetti Stringenti Rispetto al resto Del mondo E poi Importiamo Prodotti Che non hanno Nulla a che vedere Con queste regole Ma anche dal punto Di vista qualitativo Ma la qualità Non c'entra nulla Noi stiamo parlando Di regole produttive Quindi È chiaro ed evidente Che dobbiamo Imporre Una regola Di reciprocità Dove Noi Importiamo Solo A determinate Condizioni E come dire Noi Ci stiamo mettendo Tutto l'impegno Possibile Per andare Verso Una transizione Ecologica Dell'agricoltura L'Europa Lo sta facendo I prodotti Che importiamo Devono avere Gli stessi requisiti Altrimenti Se siamo Soli Unici Ad andare Verso La transizione Ecologica E gli altri Ci fanno Una concorrenza Sleale A condizioni Diverse Insomma Poi sentiamo Un altro Paio di domande La prima È In questa protesta Le grandi organizzazioni Condiretti Confagricoltura Anche voi Sono finite Nel mirino Sì Ma sono finite Nel mirino Io credo Anche Impropriamente Dalla base Di chi sta manifestando Sono manifestazioni Diciamo Autonome Spontanee Che hanno Tenuto al di fuori Diciamo Le bandiere confederali Di tutte le organizzazioni Io credo Ingiustamente Perché in realtà Noi in questi anni Abbiamo portato avanti Tante rivendicazioni Abbiamo Esposto i problemi E portato avanti Le proposte Le rivendicazioni Oggi Gli stessi problemi Vengono messi Sul tavolo Da loro stessi Ma le proposte Oggi Vengono portate avanti Anche dal governo Perché all'incontro Di Palazzo Chigi Di Venera Discorso Molte delle proposte Che sono state Portate avanti Sono quelle che Anche noi Come ci agricoltori Italiani Stiamo portando avanti Da tempo Abbiamo portato Anche in piazza Il 26 ottobre Davanti Ad alcuni Migliaia di agricoltori Dove abbiamo Denunciato Già allora Che c'era una situazione Drammatica Nelle campagne Quindi quelle proposte Che sono state portate avanti Da Palazzo Chigi Noi ovviamente Le sottoscriviamo Ora però Dobbiamo passare Veramente dalle parole Ai fatti Altrimenti Commettiamo Gli stessi errori Del passato Gli agricoltori Domani a Roma Soprattutto quelli Del CRA Agricoltori traditi Hanno detto Che manifesteranno C'è riscatto agricolo Che mi pare Dell'altro movimento Diciamo più importante Delle proteste Di questi giorni Che ha detto Noi non ci saremo Dal suo punto di vista Va bene Questo intervento Diciamo Dalla reintroduzione Dello sconto Sull'IR Il pezzo O no Va sicuramente bene Dopodiché Non è il più grande problema Che abbiamo in agricoltura Bisogna che siamo molto chiari Perché riguarda Solo pochi agricoltori Questo provvedimento Mentre tutti gli altri Comunque Sarebbero stati Esentati Da questo provvedimento Dopodiché È chiaro Che in un momento Così difficile Particolare Anche questo È un provvedimento Che va bene Che noi abbiamo Anche richiesto Immendando anche All'interno Della legge di stabilità Cercando anche Di portare avanti Le nostre rivendicazioni Dopodiché Bisogna che siamo anche Molto chiari Abbiamo problemi Molto più grandi In agricoltura Che vanno affrontati E risolti Subito Perché il fattore Tempo determinante Adesso ve li affrontiamo Voglio chiedere Appina Piceno Una cosa Perché lei sa benissimo Che lei Nel senso La sinistra europea È nel mirino Soprattutto del governo Italiano Siete voi Che anziché Aver voluto La transizione ecologica Come dice Giorgio Meloni Volete la transizione ideologica Però C'è stata una retromarcia Su varie cose In questi ultimi giorni Sulla scia delle proteste Mi pare Da parte dell'Europa O no Intanto io lo capisco Che siamo in campagna elettorale Quindi siamo abituati A dei toni Come dire Eccessivi Che Insabbiano poi la verità Ma mi corre l'obbligo Di ricordare Anche stamattina Che il commissario All'agricoltura Lo sa benissimo Cristiano Che è polacco È un polacco Dell'Isiar Della famiglia politica Di cui Meloni È presidente europea Cioè conservatori e riformisti E che hanno guidato La politica agricola Nel corso di questi anni La PAC La politica agricola comune Lo spieghiamo A chi ci ascolta da casa Che non conosce Giustamente Questi termini Che utilizziamo Lei da tanti anni Poi sta a Bruxelles Quindi lo sa È stata votata Da tutte le forze politiche Inclusa la Lega Cioè Tutte le forze politiche Presenti Nel Parlamento europeo Hanno votato Con voto positivo La politica agricola comune Quindi Arrivare A tre mesi Alle elezioni europee A questo scaricabarile Di cui Siamo partiti Con il riconoscimento Della necessità Di parlarsi Sul merito E di abbandonare I toni Da campagna elettorale Ecco Fa un po' specie C'è stato qualche errore Nel cronoprogramma Di questa transizione Io su questo Non eludo la questione C'è un punto Che è la questione Che ricordava prima Cristiano Allora Gli agricoltori Fino a qualche anno fa Erano Gli europeisti Più convinti Perché la PAC La politica agricola comune È una delle politiche fondamentali Dell'Unione europea E nasce come sostegno A reddito Gli agricoltori Gli agricoltori Avevano le bandiere Dell'Europa Perché venivano incentivati È nato un po' Come un mercato protetto Diciamo la verità Quello agricolo Con un sostegno diretto Sossidiato Esatto Con il sostegno diretto A reddito Degli agricoltori Che cosa è accaduto Che questi agricoltori Così come in parte Un po' Il ceto medio Da protagonisti Dei grandi cambiamenti Che sono avvenuti In Europa Si sono sentiti Via via Un po' Spettatori Delle grandi trasformazioni Che hanno investito Il nostro continente E noi abbiamo Avuto delle intuizioni giuste Perché la transizione Lo si diceva Digitale Ma anche la transizione ecologica Sono delle intuizioni giuste Il modo con cui Ci si è arrivato Ha peccato Un po' Di concretezza Questo è vero Però su questo Fatemi dire La sinistra Europea O meglio Il PD Al Parlamento Europeo Si è sempre distinta C'è un nome Nel birino Timmermans Però Il Parlamento Europeo Secondo molti di tutto È vero Ma il Parlamento Europeo Con figure autorevolissime Del mondo agricolo Penso a Paolo De Castro Ma tutto il gruppo Del Partito Democratico Hanno sempre corretto Il tiro Guardate La vicenda Del riposo Dei terreni incolti Che Timmermans Che la commissione Che il commissario polacco Dell'ECR Proponeva nella PAC Il 7% dei terreni Grazie all'azione Del Parlamento È arrivato al 4% C'è stata una deroga Voluta Ci raggiungono poi Dei compromessi Evidentemente A cui abbiamo lavorato Però scusatemi Devo andare in pubblicità Vorrei dare un piccolo Ovvio di servizio Adesso potevo sentire Perché vedevo che Scalpita Non avevo le borchia Su questo E dare un paio di notizie Però a rientro Dalla pubblicità Vi faccio vedere Anche una cosa Perché dal racconto Di questi giorni Delle proteste Diciamo Rispetto a questo racconto C'è una sorta Di filiera agricola Che sfugge A questo racconto A cosa mi riferisco Soprattutto a quei Tanti agricoltori Che dicono Ormai non ci conviene Quasi neanche più Produrre Perché non recuperiamo Questi costi C'è una filiera Quella Biologica Del bio E in cui c'è Un patto Che diciamo Tutela I produttori I primi produttori I contadini E tutta la filiera Lo vediamo dopo La pubblicità Questa comunità Del cibo Che vede insieme La partecipazione Dei produttori Dei trasformatori E di coloro Che poi Distribuiscono Al consumo I prodotti Un modo differente Di coltivare Produrre E mangiare È il circuito Del biologico Quello di Ecor Natura Si Che oggi Conta più di 300 aziende E non garantisce Solo cibo di qualità Ma assicura Agli agricoltori Una maggiore Sostenibilità economica Oggi Un chilo di grano Va sul mercato 25 centesimi Un pane Al consumo Possiamo dire 4 euro Un pane Che si trova Comunemente In vendita Dentro questa fascia C'è un antivario Troppo squilibrato Per il produttore Del grano Il sistema Diciamo Economico Attuale Si rivolge Alla parte agricola Dicendo che Quando bisogna Comperare un prodotto Questo è il prezzo Quando bisogna Venderlo Di nuovo Questo è il prezzo Dove spesso Il produttore agricolo Non è un soggetto Diciamo Attivo In questa fase Come facciamo Però A far sì Che Un valore aggiunto Maggiore Vada a finire Nei tasche Del produttore Noi le soluzioni L'abbiamo trovata Fino ad oggi Ha funzionato Bene Il sistema Di riferimento È Il circuito Ecor Ecor Natura Si Un giusto prezzo Che retribuisce Adeguatamente Gli agricoltori Crea una relazione Duratura Con i fornitori E costruisce Insieme a chi produce Il prezzo del prodotto Si è trovato Un equilibrio Necessariamente Che è indispensabile Tra Colui che produce E coloro che trasformano E coloro che poi Portano A distribuzione I prodotti Che otteniamo Così Viste da qui Le proteste Degli agricoltori Sono sacrosante Anche se Le soluzioni Sembrano essere diverse La più importante E sbagliata È quella Pensare Di poter Utilizzare La chimica Le norme comunitarie Non premiano il lavoro I contributi Vengono reagiti Ad ettaro Quindi Tanti ettari Tanto 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 lavoro Nulla L'esempio Dei danni Da animali salvatici Che ormai Sono diffusissimi Ovunque Mi dispiace Che questi giorni Nessuno ne parli Non se ne può parlare Perché c'è un atteggiamento Del mondo Diciamo così Tra virgoletta Ambientalista Animalista Dove c'è una negazione Del problema Sono stati bravi A sollevare il problema A farlo diventare Un problema collettivo Di tutti Se sarò attento A far sì Che la montagna Non partorisca Il topolino Allora Interessante Che questo servizio Perché poi Si è parlato Molto di filiere Perché Uno dei veri problemi Oggi Poi il presidente Fini me lo dirà Adesso devo andare Dall'onore Borchia Il vero problema Il vero problema È che forse È uno dei pochi settori Dove il produttore Primo Non stabilisce il prezzo Lo stabiliscono gli altri Ed è un po' curioso Borchia Dice Pira Picerno Ma di che vi lamentate Ci avete messo Del vostro Nella PAC È tutto il contrario Perché non è notata Borchia La PAC Adesso parlo io Se me lo consentite Prego 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 Allora Che ci sia un cortocircuito Un doppio cortocircuito Mi sembra che sia evidente Le parole di Romano Prodi Credo che in poche altre occasioni Da parte mia Siano state così condivise Poi C'è C'è il grosso tema Che finché parlava Il presidente Fini Io vedevo che in studio C'erano degli ampi Cegni di assenso Però il tema è che Le parole del presidente Sono le stesse cose Grosso modo Che dice la Lega sul tema Allora Mettiamo un po' di ordine Nei vari ragionamenti C'è stato un grande can can La scorsa settimana A Strasburgo Quando la presidente Von der Leyen Ha annunciato il ritiro Del regolamento Sui fitosanitari Solo che Si è dimenticata di dire Che è un regolamento Che dal punto di vista Dei numeri In aula Non è passato Grazie ai voti decisivi Della Lega E di identità E democrazia Per cui I numeri sono numeri Poi le opinioni Sono rispettabili Ma sono un'altra cosa Per cui Il tema è che Se il prosecco O la marrone Potranno continuare a fare I trattamenti in vigna È grazie al fatto Che questo regolamento Si è stato respinto E quindi Questa non è una gentile Concessione Della presidenta Von der Leyen È una presa d'atto Che non c'erano i numeri Né a livello di Parlamento Né a livello di Consiglio Quindi a livello Di stati vendri Dopo sinceramente A me queste retromarce Insospettiscono Perché mancano Meno di quattro mesi Al voto E onestamente Vedere che Chi ha portato avanti Sempre in maniera Convinta Testarda E ostinata In una determinata linea Si risveglia All'improvviso Quando si sta avvicinando Il voto Ecco insomma Consentitemi Un minimo di perplessità Facciamo un passo indietro Durante i tempi Durante i bui giorni Della pandemia Io avevo inviato Una lettera Alla commissione europea Chiedendo Che le tappe I parametri Le tempistiche Di implementazione Del Green Deal Venissero riviste Proposta Respinta Al mittente Però adesso A pochi mesi Dalle elezioni Quello che chiedevo io Magicamente diventa Di attualità Poi una piccola Grande Precisazione Sul tema Sul tema PAC Allora Per quanto riguarda I piani strategici La Lega Si è espressa A favore Perché era un voto Contro Timmermans Per quanto riguarda Invece il testo Sull'OCM L'organizzazione comune Di mercato Invece c'era stata Una stensione Con i piani strategici Timmermans voleva Imporre Che la Far to fork Diventasse parte Della PAC E quindi Anche in questo caso C'è stata una sconfitta Da parte Dell'allora Vicepresidente Della Commissione Europea Sul tema Del regolamento Fitosanitario E dei pesticidi Poi Sul tema Di una PAC Che rispetto al passato Mette a disposizione Meno delle sorse finanziarie Per gli operatori Del settore Contestualmente Chiede loro Più cose Da loro Più incombenze Però per quanto riguarda La valutazione Era un testo Che non si poteva Non votare Anche alla luce Il fatto che La mina di Timmermans Era stata sconfessata Chiaro Chiarissimo Scusate Poi se vogliamo Poi se vogliamo Magari Aspetti 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 Un attimo Adesso Allora Un tweet Deve essere Però Il tweet L'hanno votata Come appena detto Borchia Quindi La campagna elettorale Della Lega Del governo Lascia un po' Il tempo Ma lo dico Ma lo dico Guardate Non in tono polemico Perché intorno Alle questioni serie Di tutte le forcherie Che stanno mettendo In ginocchio La nostra economia Io le cose Ve le ho spiegate Sì sì Chi vuole capire Capisce Chi vuole fare polemica E stridare In studio Strigli Non c'è problema Io faccio Veramente in un tweet Siccome sono questioni serie Che riguardano La vita degli agricoltori Che molto spesso Lasciano il prodotto Marcire Sull'albero Perché Non conviene Nemmeno Andarlo a raccogliere Perché ci perdono Perché la mano d'opera Costa troppo Tutto quello Tutto quello che avete raccontato Allora siccome sono questioni serie Che riguardano Ma chi c'è di maggioranza La pelle Di queste persone Io dico Lasciamo un po' Da parte I toni di campagna elettorale E proviamo a discutere L'unica Ci sono cinque anni di continuità Ci sono cinque anni di continuità Un passo in avanti Semplicemente questo Penso che Penso che Lasciare da parte polemiche Mai come in questa fase Sia complicatissimo Visto che si avvicinano Le elezioni europee Ma questo è semplice Mi scusi Devo andare avanti Prego Un tweet Borg Devo andare avanti Prego Pancani Mi perdoni Qui si chiede L'assunzione di responsabilità Perché a me non sta bene Che chi ha portato avanti Per cinque anni Una linea suicida Che ha messo in ginocchio Tanti comparti Della nostra economia Adesso a pochi mesi dal voto Faccia le retromarce Retromarce che non sono Assolutamente credibili Andando a inventare Addirittura Sulla base di quelle Che sono le velline Degli uffici stampa Del PD Che la colpa È del commissario All'agricoltura Ma scusate Ma la PAC Non è stata Un'implementazione Degli accordi di Parigi Non è Un'implementazione Del Green Deal Il Green Deal Chi è che l'ha votato? L'ho votato io O l'avete votato voi? Su Va bene Stop Un attimo Poi riprendiamo il discorso Quando volete Io ci sono Per fare un dibattito su questo Avrei molte cose di dire Facciamo un'altra puntata Anche dopo di mattina Vi invito a entrambi E così Facciamo una puntata Solo su questo Paolo Buongiorno 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 La foto parla da sé Ha ripreso piede L'alta pressione Sull'Italia Quindi di nuvole Ce ne sono ben poche E qualcosa cambierà Ma solo in parte Nel giro di 48 ore Probabilmente Allora Vediamo la previsione Per oggi Un'ipotesi Di qualche Debolissima Precipitazione Sulla costa Settentrionale Verso le Baleari Insomma C'è un maltempo Non marcatissimo Però potrebbe essere Un segno Di un qualche cambiamento Vedremo Se questo cambiamento Ci sarà Secondo me Non ci sarà Quindi ancora Tempo stabile Chi è contento Chi aspetta la pioggia Che un po' è venuta Serve Presidente Fini La pioggia Non basta Tantissimo Servirebbe Però non ci danno Le notizie rassicuranti Pioggia Neve E tutto quanto Le temperature In questi giorni Di tempo stabile Le minime Leggermente basse Ma sempre sopra La media Della stagione Le massime Possono anche salire Quindi Come dicevamo ieri Poi sembra primavera Però speriamo Che non sia già La primavera Grazie Paolo Sottocorona Riprendiamo i discorsi Che avevamo in essere Diciamo così Poi parleremo anche Del libro Di Cani da Morvillo Aggiungendo un elemento Sapete che c'è stato Nei giorni scorsi L'intesa politica Sul nuovo patto Di stabilità E crescita Si parla di Finanze Dei paesi Della UE Che devono essere Sostenibili E si dice anche Che bisogna Sostenere ovviamente La crescita Con riforme E investimenti Ma questo per l'Italia Che cosa vuol dire E soprattutto Che prospettive economiche Abbiamo Lo vediamo dopo Con Marco Fratini Esagerato Esagerato parlare Di gelata dell'economia Ma la frenata c'è Le previsioni Comunque invernali Come si è capito Della commissione Sulla crescita Del nostro paese Non solo Decimale più Decimale meno Sono importanti Innanzitutto politicamente Con la premessa Che per le europee Si vota giugno Il nuovo patto di stabilità Userà proprio Questi dati Per diventare operativo E che possa essere Più morbido È veramente Tutto da dimostrare Se non da temere L'azione di governo Per quest'anno Cioè la legge di bilancio È stata basata Su presupposti contabili Di crescita Forgiati In un certo ottimismo Ora Appare eccessivo Anche per il governatore Della Banca d'Italia Panetta Il PIL Sta subendo Un rallentamento Questo significa Che il rischio Di dover prima Rivedere le cifre A ribasso E poi procedere A una manovra correttiva È possibile Nessuno se lo augura Ma è bene Tenere presente Che un decimale Termine solo Apparentemente minimalista Vale comunque miliardi Perciò con buona pace Di tante promesse La ragioneria Della concretezza Consiglierà di stare Entro un limite Più stretto Ma senza ponte Senza aumenti Delle pensioni Senza troppi margini Per le famose riforme Il deficit Al 5,3% Con il quale L'Italia Ha presentato I suoi conti A Bruxelles La porta Comunque inesorabilmente Verso una procedura Di infrazione Anche se Di inesorabili In questi anni Ne abbiamo viste poche E la presenza sicura Della Francia Nello stesso elenco Degli ammoniti Rende lo scenario Meno pesante Anzi Con l'inflazione In permanente Discesa ovunque Finalmente anche in Germania Perché si è capito Che se non lo fa lì Non si muove nulla Aumentano le possibilità Che la banca centrale europea Tagli i tassi Praticamente Un ravvedimento Operativo Per scongiurare Che il rallentamento Diventi recessione Che l'economia Giripoco È confermato dal dato Premonitore Della produzione industriale In Italia Ha perso nel 2023 Due punti e mezzo Tanti Prova che resta assente Una vera politica Sul tema Piazza Affari Non è Wall Street Ma l'addio alla borsa Per motivazioni diverse Annunciato da due grandi società Toz e Saras Lusso e petrolio Della Valle Moratti Famiglie simbolo Dell'imprenditoria italiana Rappresenta L'ennesima perdita di valore Per il mercato finanziario Del nostro paese Mercato nel quale L'unica industria rimasta Prevede solo una fabbrica Quella dei soldi Siano le banche con i mutui Debiti per noi Profitti per loro O lo Stato con i PTP Qui la regola si inverte Cambia poco La finanza ormai È regina Senza rivali Allora Claudia Bifare Tu volessi dire qualcosa Noi in merito A queste ultime cose Che abbiamo detto Sugli agricoltori Voglio intanto dar conto Che in Spagna Ci sono nuove proteste Degli agricoltori In diverse province La frontiera più calda È quella con la Francia E l'Andalusia Poi questa notte È stato dato il via libera Al famoso emendamento Al mille proroghe Quello con diciamo Gli sconti Per l'IRPEF agricola E oltre a questo C'è un emendamento Che rinvia Al 30 giugno Al 30 giugno L'obbligo di assicurazione Sui mezzi agricoli Nelle aree private Con un po' di malizia direi Il 30 giugno Abbiamo scavallato Le elezioni europee Ma insomma Questo è un altro discorso Che volevi aggiungere? No, beh Inserendoci nel quadro È chiaro che Rientra nella campagna elettorale Per le europee Anche il passo indietro Di Van der Leyen La transizione ecologica È diventata ideologica Non c'è niente da fare È così Sono scelte anche scellerate Quelle dell'Unione Europea Alcune ne parlavamo Assolutamente Non sensate Come quella del 4% Dei terreni Che non possono essere coltivati Per avere i fondi europei Poi è un tema di tutela Ovviamente Per quanto riguarda Il nostro paese Non è soltanto Un valore economico Quello del settore agricolo Che pure ha Il 2,2% di pillo Un milione di lavoratori Ma è anche Un tema culturale Che riguarda Il nostro paese Le nostre tradizioni La nostra cultura L'enogastronomia Le eccellenze italiane La bellezza Della nostra Italia Che ci rendono Ovviamente Famosi conosciuti Nel mondo Allora Adesso vado a Candina Marvillo Volevo chiedere Al Presidente Fini Un'altra cosa Diciamo Vedendo il servizio Sul bio Un po' L'abbiamo accennato Ma come si fa A riequilibrare Questa catena Cioè Dal contadino Dal campo L'industria Agroalimentare La trasformazione La grande distribuzione Che si dovrebbe fare Dal suo punto di vista Ma Intanto cito alcuni dati Il grano Italiano Oggi Ha la stessa Quotazione Del 1985 Dal 1985 Ad oggi Forse i costi Di produzione Sono aumentati Per gli altri Ma anche per noi Altro dato L'uva da tavola Viene pagata Al produttore Un euro 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 La ritroviamo Sullo scafale A 11 12 euro Il chilo Io credo Che come dire Siano tutti dati Assolutamente tangibili Tant'è che Oggi Abbiamo visto Di fronte A quelle proteste Dei trattori Ha anche tanta Solidarietà Perché probabilmente C'è la consapevolezza La maggior parte degli italiani C'è la consapevolezza Nel cittadino Che effettivamente Il problema esiste Esiste per noi Che siamo agricoltori Esiste per i cittadini Consumatori Quindi Noi abbiamo avanzato Delle proposte Ben precise Ovvero Accordi di filiera Dove si entra In una filiera E ovviamente Ci sono degli incentivi Da parte Ovviamente Della parte pubblica Ma anche Da parte privata Quindi entriamo In una filiera A determinate condizioni E produciamo Anche determinate Regole e condizioni Dall'altra parte Il rafforzamento Delle pratiche sleali In più Aggiungo anche L'etichettatura Un'etichettatura Che sia trasparente Per il cittadino Il consumatore Perché oggi In tanti casi Purtroppo Su tanti prodotti Questo non è E quindi Dobbiamo intervenire Su queste cose La vera sostenibilità Poi Andrea Riguarda anche I prodotti alimentari Che a volte Vengono prodotti In altri paesi Senza rispettare Le regole di sostenibilità Quindi sfruttando I lavoratori Usando fertilizzanti Un tweet Da Borchia Un tweet Da Pina Piceno Borchia Ci vorrebbero i dazzi In Europa? Ci vorrebbero i dazzi Su alcuni prodotti Potrebbero essere Tematica di attualità Però La politica Non dico Protezionistica Ma leggermente Anche difensiva In Europa Diciamo che Non è particolarmente Apprezzata Poi se mi consentite Un secondo tweet Sul tema Costi della transizione Energetica Io nei mesi scorsi Avrei messo a bilancio Un paio di interrogazioni Alla Commissione Europea Con la quale Chiedevo se esistessero Delle valutazioni Circa i costi Della transizione Energetica Io purtroppo Ho ricevuto Due risposte Nelle quali Curiosamente Non vi era riportata Nessuna cifra Per cui Sono rimasto Un attimo A digiuno Fortunatamente Il gruppo dei Verdi Ha commissionato Uno studio Al Russo Institute Che stima Che da qui Al 2050 Saranno necessari 40 mila Miliardi Di euro La media Vuol dire 1520 All'anno Quindi il 10% Del PIL Europeo Per cui Noi mandiamo in onda I servizi Dove Noccioliamo Quelle che sono Le problematiche Della nostra Economia E poi Andiamo A schiantarci Verso una transizione Che dal punto di vista Dei costi Dal punto di vista Della sostenibilità Dei conti pubblici Ci fa andare a schiantare Anche perché Senza il sostegno pubblico Qui non si va a nessuna parte Devo andare La canina Morvino Vi prego Questo non era un tweet Era un post Quello che ha fatto Bocchia Però devo replicare Perché Proviamo ad atterrare Sulla terra A non stare sempre Nell'iperuraneo A evocare questo spettro Ma che Bocchia sta Nell'iperuraneo E si sta in questo Lui che è colleghologico Ripete sempre Questa stessa cosa Il Green Deal Allora La questione Che ha posto Il presidente Fina Il costo dell'uva Sullo scaffale Che al povero agricoltore Viene pagato Due soldi Non c'entra Niente Col Green Deal E con tutte Ste menate Che abbiamo appena sentito C'entra invece Con l'inflazione C'entra invece Col fatto che E atterriamo Il governo Perché è una questione Anche nazionale Non sta facendo Niente rispetto Al costo Del costo Della vita E rispetto Ma chieda Gli agricoltori Io non ho Io sono Un po' Sono costretto A interrompere Che devo sentire Quindi Dobbiamo Atterrare E provare a trovare Come dicevo Delle soluzioni Che migliorino Le condizioni Degli agricoltori Questo non c'entra Niente Il Green Deal C'entra Con le soluzioni Che vanno Pensate E sostenute Senza giocare Con i numeri Del PRNRR Come si fa Con i numeri Le tre carte Ne parleremo Da qui a giugno Chissà quanto Posso dare un dato Buone notizie Per i produttori italiani Di fiori italiani Che aumentano Le vendite A discapito Delle rose Di provenienza estera Questa notizia Arriva nel giorno Di San Valentino Da I florovivaisti Della vostra organizzazione CIA Agricoltori italiani In questo 2024 Il giro d'affari Si aggira Per San Valentino Sugli 80 milioni Di euro Eh Questo mi permette Di dire Di farvi vedere Il nuovo libro Di Candida Morvillo Edito da Harper Collins Sei un genio Dell'amore Non lo sai Amare E farsi amare In sei semplici passi Fosse Fosse così semplice Verebbe raggiungere Candida Anche perché noi parliamo Di amori tossici Ancora ieri L'ennesimo Quasi femminicidio In provincia di Latina Insomma Sono tempi Molto complessi Sono tempi molto duri Per l'amore Ma proprio perché C'è un malinteso Senso dell'amore Invece Quello che io ho provato A fare con questo libro Che è appena uscito In libreria Intanto ho messo ordine In anni e anni Di interviste Che ho fatto A personaggi famosi Parlando d'amore Ho attinto Diciamo All'esperienza Che Sono aperti Su questi temi I personaggi famosi Beh moltissimo Perché non c'è niente Che apparenta Di più gli esseri umani Che i problemi d'amore Le gioie d'amore Le pene del cuore Il desiderio Il desiderio anche Di diciamo Di amare E di farsi amare E quindi Ho messo Un po' in ordine Quello che in tanti anni Ho imparato Sull'amore Anche sbagliando Personalmente Anche studiando Ovviamente E quello che mi sono Di cui mi sono accorta È che veramente Cioè In realtà Tutto nasce Dalla Dicidi Degli amori tossici E che si comincia Con dei piccoli Falsi miti Il possesso Lui è geloso Quindi mi ama E da lì poi L'escalation Può arrivare Mi verrebbe da chiederti Seguendo i tuoi Semplici passi Diventiamo migliori Nelle relazioni Con gli altri Non solo diventiamo migliori Nelle relazioni Con l'altro E possiamo costruire Un amore sano E felice Ma secondo me Diventiamo anche migliori E in qualche modo Più efficienti Se mi passi il termine Nella nostra Nella nostra vita Di tutti i giorni Perché l'amore È quella cosa Quello strumento Straordinario Che la vita ci dà Per migliorarci Cosa succede Quando amiamo In modo sano Che noi vogliamo dare Il meglio di noi stessi Vogliamo essere Noi al meglio Delle nostre possibilità Per essere amati Dall'altro E questo fa sì Che noi diventiamo migliori Ci evolviamo Anche nella vita Ed è fondamentale Dirlo oggi Perché oggi Sembra che l'amore Non serve a niente Cioè Perché ci si lascia Dopo due mesi Cioè diventa obsoleta Qualunque storia d'amore Come l'ultimo telefonino Si rottavano con grande Rabilità i rapporti Diciamo così Molto E invece C'è ancora un senso Se tu torni Ci permetti di tornare Facciamo una puntata Dedicata a tutti questi temi Che mi sembra Siano temi Comunque universali Ovviamente Io non auguro Il buon San Valentino All'amico David Parenzo Ma auguro Il buon compleanno Perché credo che tu oggi Festeggi il compleanno Mio caro Guarda Con applauso Grazie Che affetto Che affetto Grazie Sono drammaticamente 48 anni Caro Andrea Ma non è di questo Che parleremo Bensì Ci legheremo In parte Al libro di Candida Morvillo Che parla Dell'amore E delle relazioni sane Qual è Una relazione sana Di amore Quella che è scoppiata Tra Ellie Schlein E Meloni Sul tema della guerra Eccola Qui ci avventuriamo In terreni Incogniti Che grande metafora Di questo Non parla L'ottimo libro Della Morvillo Che si occupa Di relazioni No Mentre noi invece Partiremo Proprio per San Valentino Da questo Di questi messaggini Che sono Di cui anche tu Hai raccontato Sperate che Buttiamo via questo cuore Questi messaggini Che si sono scambiati Meloni Meloni e Schlein Su un tema Davvero importante Che è appunto Quello della guerra L'Italia Sostanzialmente Su questo Prende una posizione Possiamo dire Un'Italia Tra maggioranza e opposizione Il PD è riuscito In parte a convincere Anche il Movimento 5 Stelle Fermiamo la guerra E liberiamo l'ostaggi Parleremo E rivedremo Quelle drammatiche immagini Delle proteste Davanti alla RAI Con quell'incredibile Gestione dell'ordine pubblico Da parte della polizia Effettivamente Questi ragazzi Stavano soltanto manifestando E non si capisce Perché c'è stata Una reazione Una reazione così forte Vi faremo poi Rivedere Il Santone di Corcolle Ne abbiamo parlato Un'Italia Che spesso Si rifugia In Maghi E Santoni La nostra Isabella Ciotti Oggi cercherà Di incontrare Questo signore Che sostiene Di avere Di benedire l'acqua E di avere Un'acqua benedetta Che produce Eccola qui La nostra Ciotti Lo incontreremo Avremo Paolo Mieli Angelo Azzaro Riccardo Ricciardi Il professor Giulio Tremonti Presidente della Commissione Affari Essere della Camera Che sarà in studio con noi Francesco Specchia Poi di nuovo Il direttore del Corriere Luciano Fontana Parleremo dei condoni La Lega lancia Il condono edilizio Dice per abbassare I prezzi Delle case in affitto E insomma Partiremo Partiremo da qui Però da questo Inedito rapporto Mi pare che per il tuo compleanno Ti sia regalato Un vasto programma Come si dovrebbe dire Esatto Grazie Ti mando un grande bacio Eh caro Andrea A te e a tutti i tuoi ospiti A te e a tutti noi Ancora auguri Io chiudo la puntata Ringraziando tutti i nostri ospiti Con questa notizia Che arriva da Mosca Quando si parla Di democrazie Di autocrazie Putin ha firmato Una legge Che permette Di confiscare Le proprietà Alle persone Condannate Perché hanno Condannato Hanno criticato La guerra In Ucraina Ci chiudiamo Ci fermiamo qui Grazie Ci vediamo domani